Per il reclutamento da qui al futuro i decreti puntano sui fabbisogni e non più sulle piante organiche perché dati alla mano siamo consapevoli che abbiamo bisogno di riaprire le assunzioni del pubblico impiego di fare entrare giovani da un buon reclutamento si determina un buon futuro ma non abbiamo la necessità di fare entrare giovani di qualunque professionalità ma di stare attenti a fare entrare le professionalità che servano all'amministrazione per far arrivare i servizi ai cittadini ecco la razio dei fabbisogni, se ho bisogno di medici devo assumere medici e non amministrativi sulla valutazione noi focalizziamo tutto sul potenziamento dei servizi ai cittadini la valutazione nella pubblica amministrazione non serve a fare liste di buoni o cattivi o a togliere per forza in una logica punitiva centinaia di euro a stipendi non altissimi penso agli infermieri, penso appunto alle educatrici dei nidi la valutazione serve ed è fondamentale per questo noi in questi decreti superiamo i premi a pioggia e obblighiamo alla differenziazione ma in una logica non punitiva ma di potenziamento dei servizi ai cittadini l'ultimo punto è quello sull'efficacia delle sanzioni se sbagli i vizi formali per esempio non consentiranno più di annullare le sanzioni se un dipendente pubblico ha sbagliato e questo sulla scia del ormai famoso decreto, questo già vigente sulla falsa attestazione in servizio su chi timbra diciamo per un altro, su chi quindi falsa la sua attestazione in servizio in ufficio che sta dando laddove si verificano i casi la prova di essere una norma efficace recentemente è stata applicata un dipendente della regione Emilia Romagna insomma abbiamo dal nostro monitoraggio al Ministero la prova che questa norma è stata tutt'altro diciamo che una norma sbandierata come invece era avvenuto in passato ma è una norma che sta dando prove concrete dell'efficacia della sanzione laddove c'è una prova che si è voluta falsificare la propria presenza in servizio direi che queste sono le novità principali grazie